Tutti quanti perché qui è il commercio e gli albergatori sono sulla stessa barca, credo. Grazie Massimo, al di là delle conversazioni, io credo che oggi è la città che deve dimostrare questo autogol turistico, per cui al di là di chi ci farà credere in futuro che non ci saranno problemi sismici, che non ci saranno problemi di sicurezza o ambientali, San Benedetto, e io vivo da sempre in questa terra, deve vivere il turismo, se noi abbiamo intorno a noi le palme, abbiamo tutto quello di più bello che ci può stare per un paese come il nostro turistico, pensare che stiamo tutti qui per cercare di scongiurare una cosa del genere, un progetto così mostruoso, io credo e vorrei che questa cosa sia in ognuno di noi, che dobbiamo scongiurare quello che turisticamente probabilmente sarà un autogol, per cui siamo pronti perché oggi è l'inizio.